Per l'intelligence americana non ci sono più dubbi. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato nel 2016 una campagna per influenzare le presidenziali negli Stati Uniti, ma le sue azioni non hanno condizionato l'esito del voto. Secondo il report degli 007 statunitensi sulle operazioni di hackeraggio durante la campagna elettorale, firmato dal direttore della National Intelligence James Clappler, il Cremlino puntava ad aiutare Donald Trump screditando la rivale Hillary Clinton. Una caccia alle streghe attacca il presidente eletto che ieri è stato proclamato ufficialmente vincitore delle elezioni dal congresso e che il 20 gennaio si insedierà alla Casa Bianca.